Sudalizio Vincente è quello che ha coniugato la delicata melodia della musica da camera con le suggestioni di luci ed ombre serali dello storico spazio del centro detto Ubaglio a Militello Rosmarino. Hanno riccheggiato nel cuore del piccolo centro nebroideo le sonate magistralmente interpretate dal duetto formato da Carmine Calabrese al pianoforte e da Marco Piscitello al clarinetto nel concerto Ballo in Musica in cartellone per l'estate militellese e che si è svolto nella serata dello scorso 16 agosto. Soddisfatti gli amministratori comunali per la positiva risposta del pubblico allo spettacolo che per la specificità del genere musicale proposto incontra solitamente gusti molto elitari. Un grazie particolare lo voglio rivolgere ai maestri, con le loro note ci hanno allietato quest'oretta e spero che questo sia il primo di una lunga serie di concerti che loro dovranno fare nel nostro piccolo paese. Grazie al nostro talento il maestro Marco Piscitello e al professore Carmine Calabrese che ci hanno avvietato questa bellissima serata e come dice il nostro sindaco speriamo che questo sia il primo di una lunga serie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.